allora aspettiamo che lo scudo di noel sparisca ecco così crepa ok perfetto abbiamo fatto il nostro sacrificio bene sono contento siediti impostiamo l'orologio vabbè 23 49 così ho un po di tempo per selezionare il banner ora cominciamo prima multi da 10 ovviamente arma 4 stelle sperando che sia va bene volevo un aliticspr in realtà volevo un aliticspr però va bene va bene anche ninguang va bene anche o bello che mettono tutti nessuno bene sono contento ed arrivano le persone giustamente e mi mettono nessuna beh dai mi piace vi voglio bene anch'io sperando sperando che facciate piti su tutto quello che dovete cercare ok quindi andiamo avanti ovviamente non ci sono cinque stelle quindi spero di trovare più quattro stelle magari almeno piango con un occhio o un altro widget benissimo che lo portare fa in 3 va bene va bene va bene va bene va bene qualcuno ha usato i punti bello si vede se c'è qualcuno che ho stati punti perché a fine sondaggio a fine sondaggio si vede che a fine sondaggio lo posso si vede chi è che ha utilizzato punti o bit quindi ti sgamo chiunque sia che ha utilizzato i punti o i bit o quello abbi te nessuno perché non c'è stata nessuna notifica però però va bene c'è nel senso lo vedo ci si vede quindi quindi non è non è un problema sapremo chi è il simpaticone di turno altra da 10 vai così o già adesso 5 stelle oddio non voglio vederla ok questo è da 3 quindi la posso guardare va bene questo è da 3 quindi la posso guardare questo è da 3 quindi la posso guardare questo è da 3 questo è da 3 questo è da 3 questo è da da 4 uh sacrificial bow sacrificial bow refine refine 3 se non sbaglio quindi buonissimo eccola eccola si la stoffo forma si 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 e non è finita aspetta non è finita non è finita ok finita si la stoffo forma e ce l'abbiamo alla faccia degli invidiosi come si suol dire benissimo 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 ma io ho ancora 30 pull io ho ancora 30 pull va bene un'altra da 10 vediamo se magari mi esce una bella litig vorrei la litig vorrei la litig in realtà la litig spear se trovo la litig spear mi fermo perché non ho interesse nel cercare a peccato per la gravestone mi sarebbe piaciuto trovare anche la gravestone eccola perfetto 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 abbiamo abbiamo finito perfetto oh noel ah vabbè peccato che ce l'ho già ci sei però mi da un mi da un pull quindi va bene va bene mi restituisce praticamente il pull lions roar però vabbè oh 3 4 stelle non è andata male non è andata male però ho trovato tutto però ho trovato tutto questo è un problema per dieci questo si è un problema non è andata male c'è un problema